Brava, bravissimo, ok ci siamo, fatelo piano e bene, piano e bene Ok, perfetto, va bene, scarica tutto il peso sul pedale, ricordati, ok ci siamo Perfetto, perfetto, ok Ok, attenzione all'albero Ok, scarica di più il peso Brava, 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 ok, bel controllo Brava Mary, bravissima, va bene, bravo Giallu, hai sbagliato la posizione del piede, Giallu Ok, ok Benissimo Posizione, scarica tutto il peso, no, l'altra parte, contrario hai fatto, ok, ottimo Scarica, scarica tutto il peso, non tenere la metà, bravo così, scendete giù con quelle gambe, giù, ok, perfetto, perfetto, brava, giù col piede, giù il tallone, ok, vai, scarica, scarica il peso, tutto, tutto Sì Che macello ragazzi oggi, pronti, via, vai Brava, guarda che ingresso, via, vai Mary, tranquilla Giù il piede, giù il piede, brava, vai, ok, scarica giù il tallone, giù il tallone, bravo, un po' meglio Bello, bello, bello ingresso, via, ottimo Scarica di più il peso sul tallone, scarica il peso, Ale Steffi Ok, Steffi va bene, perfetto Vai Bravo, ok Ci siamo, perfetto, bello, bello ingresso Via Bello Ok, vai Ottimo Oh, che soddisfazione, che soddisfazione allora adesso vediamo come si comportano sulle strappi in salita ok cala non è scalato perfetto va bene ottimo bravo ok perfetto va bene via ottimo brava ok brava bravissima via ora a cambiare brava scala bravo scalare mettere ti sei caricato troppo in avanti visto bravo giallo ok un po più precisa l'ingresso la curva vai mary tranquilla comincia a scalare brava vai su ok metti già la marcia adesso vediamo la discesa via cambio di direzione via subito ottimo va bene cambio brava mary giù il tallone un po di più il tallone via cambio veloce ok sono un po troppo vicino all'albero vai giallo via cambio di direzione ottimo bravo giallo via cambio cambio tutto ok aspetta stop stop ferma ok hai preso l'albero in pieno tutto ok abbiamo preso l'albero allora ci sono gli alberi mi raccomando attenzione via vai perfetto 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 bisogna stare attenti anche in questa situazione perché si può schiacciare anche le dita anche te abbiamo tirato su anche là abbiamo tolto il problema grande adesso la forestale ci va bene che era secco dai alè non c'è più il problema si è fatto male ho posto ok l'hai preso col manubrio giusto ho preso col braccio addirittura non ti ferma niente ha buttato giù l'albero è grosso è grosso via vai bello 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 ok sei tranquillo via cambio via cambio perfetto via cambio no piede sbagliato hai visto via vai in avanti vai in avanti ottimo via credici e credici guarda avanti subito guarda avanti guarda avanti dai 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 no la voglio rifare era troppo leggera pensavo di partire non lo so dove vanno dosati in base tu sei già partita con un rapporto leggero da laggiù io qui devo arrivare con un rapporto medio duro per le mie gambe perché ho velocità poi mano a mano scarico mentre vado su vai via credici su 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 credici 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 brava brava stefi via guarda la salita carica in avanti ottimo vai via guarda la salita su perfetto vai guarda la salita troppo leggero perché non hai stabilità se affronti con un rapporto troppo leggero non hai stabilità via guarda la salita ok via scala 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 rapporto troppo duro allora qui abbiamo una discesa con una radice e la curva subito bravo bravissimo giallo cerca di non sgommare se possibile piano bene piano e bene posizione dei piedi perfetto via cambio perfetto ok guarda avanti cambio della posizione sui piedi perfetto bravo cambio ottimo bello bravo piano piano stai larga no non entrare dietro la stai larga Bravissima non è abbassato il piede Ricordatevi la posizione dei pedali se noi stiamo più bassi abbiamo un baricentro più basso siamo più agili anche per cambiare direzione vai Non scarica troppo il peso sul pedale esterno vai tallone basso scaricate quel peso mi raccomando e frenate piano più piano più piano ok bravo ottimo via Ok non stare troppo seduto indietro stai un po centrale Se è stato un po interno però va bene se è andato piano va bene lo stesso Ottimo Ok abbiamo quasi terminato il corso adesso vediamo se hanno capito un po cosa ne abbiamo spiegato Che c'è questa bellissima curva in discesa in contropendenza vediamo come lo affrontano Bello bravo bravissimo Perfetto ok bravo Ok è corretto l'ultimo però va bene Bravissimo ottimo ottimo Va Va bene lo stesso anche se sei passato dentro bravo Fino al mitico lori iscrivetevi al suo canale Come ti chiamano il suo canale? Marco Hercules Marco Hercules Iscrivetevi Perfetto Ok Tranquillo eh lori Si Bella Non l'ha visto nessuno In mondo visione Aia Non ne ho più Mamma mia che jolly Che jolly Io jolly Ah, che io!